Un autore dietro al microfono. Autopubblicato per scelta. Radio Scrivo, il podcast sul self-publishing dedicato a chi vuole imparare di più su scrittura, marketing e business. Radio Scrivo, vivi delle tue parole. Questo podcast è sponsorizzato da scrivofacile.com, il sito degli scrittori 2.0 dove potrai trovare un sacco di risorse gratuite utili per il tuo brand e i tuoi libri. www.scrivofacile.com È ora di autopubblicarsi sul serio. No, 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 mi sono fatto un bundle. E quanti chilometri fa con un litro? Ma no, no, un box set. Ah, ma è già stato svezzato. No, ma che hai capito? Ho fatto una raccolta. Ma io mi rompo le palle con la differenziata. Era meglio una volta quando potevo buttare via tutto assieme. Ma no, 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 dai. Mi sono fatto un cofanetto con i miei libri. E così lo posso vendere tutti quanti, tutti insieme. Ah, fantastico. Quando mi arriva la pensione, magari te lo compro. Ok, ciao a tutti, sono io, Eugene Pitch, fondatore di Scrivo Facile. E niente, anche oggi mi sono divertito un po' a improvvisare un piccolo sketch per introdurre il topic di oggi. Ma prima vediamo un po' le news perché mi sono ascoltato un po' l'ultimo podcast di Joanna Penn. Come sapete io la adoro e lei è una delle stelle del panorama indie internazionale e ha il suo podcast The Creative Pen. Pen with a double N, come dice lei. E niente, diceva che ha pubblicato insomma questo nuovo episodio domenica e parlava, tipo che ha assistito alla conferenza sulla fiera dei libri di Francoforte che è stata fatta online. E tra i vari ospiti c'era anche il pari presidente di Kobo che diceva di fatti che quest'anno è stato l'anno del boom degli e-book. Effettivamente è stato il miglior anno per Kobo da sempre e questo mi ricollega, diciamo che conferma, ecco, per meglio dire quanto mi era stato detto da Lucia Zitelli, che lei è la responsabile per, insomma, Kobo Italia, quando l'ho intervistata di recente. Potete trovare l'intervista completa per iscritto, l'ho pubblicata sul mio blog, quindi scrivofacile.com slash blog. E niente, quindi sì, è interessante vedere questo trend in rialzo a causa o grazie al lockdown, eccetera, di come sta andando, insomma, quest'anno purtroppo col covid. E inoltre parlavano anche, a questa conferenza di Francoforte, parlavano anche, insomma, dell'altro trend emergente ancora di più, che è appunto quello degli audiolibri, con i paesi scandinavi, per esempio, che hanno più o meno, diciamo, slittato dal cartaceo all'audiolibro, quasi direttamente. Quindi gli e-book non hanno avuto un grandissimo successo, per esempio, come in America, se pensiamo, come so, alla Svezia, però invece gli audiolibri stanno andando, stanno prendendo piede molto velocemente, ecco. Tra l'altro mi viene in mente che di recente Amazon ha aperto il suo sito, il suo store, anche in Svezia, con un sacco di refusi in lingua svedese, quindi purtroppo anche loro, vedi, ogni tanto fanno qualche errore. Quindi dicevo, appunto, gli audiolibri stanno andando così importanti che anche gli editori cominciano a prenderli in considerazione, cominciano a includerli nei contratti che fanno firmare agli scrittori, ma non solo, vogliono anche l'esclusiva, alcuni chiedono l'esclusiva anche sui podcast, perché c'è proprio questa ondata che sta arrivando, è già arrivata in parte nel mercato anglosassone, ma anche in Italia sta arrivando, l'ondata dell'audio. Quindi non solo gli audiolibri, adesso anche i podcast vanno molto di moda, per esempio in Italia uno dei più seguiti è quello di Marco Montemagno, che io lo adoro, e quindi ci sono molti autori che magari anche tramite podcast pubblicano, cominciano a pubblicare magari letture dei propri libri, no? Appuntate. E quindi insomma gli editori vogliono i diritti anche per quelli, si stanno coprendo le spalle anche dal punto di vista dell'audio. Quindi insomma è molto interessante vedere come si sta evolvendo il mercato editoriale. Certo in Italia stiamo un pochino più, siamo un pochino più acerbi ancora, ma comunque è questione veramente di tempo. Secondo me appunto con il lockdown, eccetera, anche perché mi sembrano i vociferi, ce ne sarà un secondo a breve. Insomma tutto questo potrebbe accelerare ancora di più. Bene, insomma, ok. Detto questo passiamo all'argomento di oggi. Dunque per l'argomento di oggi parliamo di bundle, oppure box set, cofanetti, raccolte, antologie, quello che ti pare. Insomma, hai capito a che cosa mi riferisco. E allora, anzitutto, ma vediamo un po' come si realizza. Vediamo un attimo come si realizza. Allora io ho creato il mio cofanetto in più o meno creato e poi caricato, in pratica ho cliccato su pubblica su Amazon, ok? Tutta questa operazione l'ho fatta durante la pausa pranzo al lavoro, quindi in 60 minuti. Cosa significa questo? Significa che creare un cofanetto è una cosa molto facile. In pratica tu prendi i tuoi bei file Word, ok? Fai copia e incolla, li metti tutti insieme in un unico file, li sistemi un attimo, risistemi il sommario, eccetera, e tac, hai fatto. Dopodiché li impagini un attimo, le puoi impaginare. Li impagini, li impagini, non li impagini, che sto dicendo? Ecco, vedi? Le impagini, io ad esempio uso Kindle Create come software, molto comodo, e poi niente, li puoi pubblicare tranquillamente. Quindi in pratica se hai dei libri, soprattutto funziona molto bene per i libri in serie, se hai dei libri in serie li metti tutti insieme, tac, e quasi, quasi a costo zero hai un nuovo asset, un nuovo prodotto da commercializzare, ok? Perché quasi a costo zero? Perché ovviamente c'è da fare la copertina. Allora io me la sono realizzata da solo, quindi per me è stato effettivamente a costo zero. Per te potrebbe essere diverso, però comunque sia può convenire perché non è che devi spendere più per l'editing, ok? E c'hai insomma un nuovo asset che può effettivamente convenire. E di fatti qui c'è la domanda, la seconda domanda. Ma conviene veramente fare questi cofanetti? Perderci un'ora del nostro tempo prezioso, facciamo due ore perché sei lento. La risposta è senz'altro sì. Allora, in Italia ancora ne vedo pochi, ma si tratta comunque di prodotti che sono molto richiesti. Quindi ad esempio uno vuole leggersi una serie, facciamo magari anche una trilogia, no? Allora cosa fa? Un lettore può magari decidere, vede che è uscito il libro 1 e il libro 2, però il libro 3 ancora non c'è. Allora cosa fa? Magari aspetta. Non ti compra il libro 1, non ti compra il libro 2, perché vuole avere il prodotto finito, vuole leggerseli tutti. Quindi può darsi che stai in pratica targetizzando una fascia di potenziali lettori che per un motivo o per un altro non hanno acquistato, sono interessati al tuo brand, sono interessati ai tuoi libri, ma non li hanno acquistati perché semplicemente vogliono aspettare la fine della serie. Li vogliono avere tutti insieme. Quando fai uscire il cofanetto, tac, sono loro magari lettori che può darsi che ti comprano il box set, insomma, il bando del cofanetto. Ma non solo, può essere anche semplicemente che siano dei lettori che hanno già acquistato tutti i tuoi libri, però gli risulta scomodo, gli sono piaciuti tanto, magari se li vogliono rileggere, gli risulta un po' scomodo averne così tanti, no? Nella loro libreria virtuale e quindi comprano il cofanetto, ci hanno tutto quanto lì, bello comodo, in un file unico e possono accedervi quando vogliono, ecco. Quindi, insomma, conviene, conviene effettivamente, conviene molto. Conviene anche per, dal punto di vista delle royalties, perché è un prodotto che ovviamente ha una fascia di prezzo più alta. Siccome è più grosso, è un insieme di libri, il prezzo va va più in alto, no? Prima di parlare, ecco, un po' più approfonditamente dei prezzi, volevo dirti che conviene anche dal punto di vista, per esempio, di KU, quindi di Kindle Unlimited, se hai sottoscritto l'esclusiva con Amazon Select, ok? Perché comunque, attraverso i page reads, le pagine lette, il camp, puoi effettivamente avere un buon guadagno, ecco, grazie ai cofanetti. Tra l'altro, puoi avere anche cofanetti semplicemente di, se hai tutti i romanzi singoli, però più o meno hanno tutti, magari lo stesso genere, ok? Lo stesso stile, puoi fare tranquillamente anche un cofanetto così, quindi non deve essere necessariamente un cofanetto dedicato a una serie, ok? Allora, parliamo invece adesso dei prezzi. Allora, qui, il fatto dei prezzi bisogna un po' ragionarci, perché con Amazon ti dà il 70% di royalty fino a 9,99€, ok? Oltre, te lo scala automaticamente al 35%, questo perché? Perché Amazon vuole mantenere una fascia di prezzo che sia tra 2,69€ centesimi e 9,99€ per i propri libri, ok? Vuole che siano prezzi vantaggiosi per i propri lettori, per i propri clienti e non vuole ritrovarsi prodotti troppo costosi che magari sono più difficili da piazzare, più difficili da vendere, ok? E questo, sì, ti becchi adesso su 9,99€ così occhio il 70% dovrebbe essere tra i 5-6€, ecco. Non è male, però, se magari nell'ecofanetto hai messo 10 libri, sono tutti bei romanzi grossi, insomma, bisogna un po' un po' pensarci, magari, se sei in Selected, ci puoi guadagnare tantissimo con 10 libri tutti insieme in un falc, ci guadagni molto attraverso le pagine lette in Kindle Unlimited, però, se non sei in Kindle Unlimited, questa fascia, questa fascia di prezzo, comincia un po' a essere stretta, ecco, perché comunque su altri store non hai tutte queste restrizioni, per esempio nell'Apple Store o recentemente, proprio recentemente, anche Google Play, hanno stabilito, insomma, che ti danno una fascia fissa del 70% di Royalty, ok? Kobo, invece, ci hanno, sì, anche Kobo per prezzi alti non ha, se non vado errato, non ha restrizioni, ok? C'ha soltanto delle restrizioni, mi pare, fino a 2,99€, che allora ti danno anche loro qualcosa come il 30, il 35%, e dopo ti dà il 45%, se non ricordo male, ok? Però, ecco, vedi da te che le restrizioni per fasce di prezzo più alte, in pratica, sono imposte soltanto da Amazon. Quindi, questo potrebbe farti riflettere sulla, sulla tua strategia di marketing, no? Come impostarla, che cosa ti interessa di più? Vuoi guadagnare attraverso alle pagine lette e pensi che sia più facile più alla tua portata, alla portata delle tue risorse economiche da investire per una campagna marketing, semplicemente usando select, oppure potrebbe convenirti magari fare, appunto, pubblicarlo wide e quindi guadagnare di più, puntare di più agli altri mercati, per esempio lo pubblicizzi di più sull'Apple Store oppure su Google Play per guadagnarci veramente di più perché se cominci a vendere un prodotto che costa 15-20 euro e per esempio se teniamo conto che sull'Apple Store hai dei clienti che in generale sono disposti a spendere un po' di più rispetto ai clienti che trovi su Amazon, la cosa si potrebbe fare anche interessante quindi insomma devi un po' ragionarci tu io ho scelto di pubblicarlo in select perché tutti i miei titoli sono in select attualmente quasi tutti ok e quindi volevo mantenerlo in Kindle Unlimited e mi andava bene così però appunto nel tuo caso potrebbe essere diverso ma non solo questo mi viene anche in mente un'intervista di recente che ho sentito adesso non mi ricordo il suo nome era il fondatore di un sito molto importante molto famoso adesso proprio mi sfugge comunque in pratica questo è un sito che ti aiuta a distribuire i tuoi libri privatamente ecco tu usi il loro il loro link il loro spazio virtuale per inserire i tuoi file e poi inviarli comodamente ai tuoi lettori adesso magari vado un attimo a controllare perché ti può interessare sicuramente e controllo aspetta eh stop un attimo la registrazione ok rieccomi qua ho ricontrollato era book funnel ecco a me veniva in mente book report ma ovviamente si tratta di un altro prodotto eh si book funnel ecco e quindi lui diceva che ehm alcuni autori hanno notato che usano book funnel proprio anche per vendere eh i loro prodotti quindi di solito adesso chiariamo la situazione book funnel viene usato dagli autori indipendenti eh per distribuire le proprie eh reader magnets quindi in pratica libri gratuiti che la gente scarica gratuitamente quindi in cambio della propria iscrizione alla newsletter per questo ti dico appunto di avere sempre una mailing list corale eccetera eccetera e puoi distribuire i tuoi libri attraverso book funnel eh ovviamente bisogna pagare un piccolo abbonamento mensile mi pare che sui dieci o eh massimo quindici dollari al mese eh ma non sei obbligato a farlo io ad esempio non lo utilizzo eh almeno per il momento comunque sia e lui diceva che ci sono autori che hanno pubblicato i libri normalmente no? però il cofanetto te lo vendono privatamente te lo vendono privatamente con un forte sconto ok quindi ovviamente il cofanetto deve già avere uno uno sconto no? perché se c'hai tre libri ogni libro costa costa tre euro facciamo no? non puoi venderlo a nove dieci euro non conviene no? devi fare un piccolo sconto quindi almeno sette otto euro ecco già potrebbe essere interessante più appetibile no? però se da lì facciamo finta devi prenderci il settanta per cento perché poi lo fai tramite un distributore tramite una piattaforma di distribuzione e di pubblicazione ci rimetti un po' ci rimetti una bella fetta no? quel 30% che invece vendendolo privatamente potresti ridurla ancora ulteriormente potresti diciamo aumentare le tue royalty ancora maggiormente no? a tal proposito mi viene in mente il mio ultimo video che ho pubblicato su youtube che è a proposito di Payhip questa piattaforma in inglese cioè ho fatto il video tutorial che ti permette di vendere i tuoi prodotti digitali incassando il 95% dei royalties quindi a questo punto tu potresti avere per esempio la tua newsletter e pubblicizzare a chi è iscritto dire guarda se ti interessa la mia serie io ti vendo privatamente il cofanetto con un bello sconto magari puoi dire ecco il cofanetto lo trovi anche per esempio su google play diciamo no? e facciamo finta che ti costa 20 euro se invece lo compri privatamente da me tramite Payhip paghi comodamente con la tua carta di credito o con Paypal o quello che ti pare e paghi 15 euro quindi risparami 5 euro però io lì comincio a guadagnarci ancora di più anche se faccio un ulteriore sconto perché prendo il 95% di royalties ok? quindi potrebbe essere effettivamente una cosa molto interessante non solo perché se ci ricolleghiamo al discorso che ho fatto nelle news riguardo agli audiolibri ultimamente vanno molto di moda anche qui mi riferisco squisitamente al mercato anglosassone i bundle degli audiolibri quindi si tratta di ore 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 di ascolto mi sembra a volte anche tipo file di 30 ore ok? mi pare io ne avevo vinto uno tra l'altro avevo vinto il cofanetto audio di Chris Fox un bravissimo autore indipendente di fantascienza e io l'avevo vinto ed era tipo mi sembra 30 ore ok? e quindi anche nel versante audio cominciano gli ascoltatori a essere interessati magari ad avere tutta un'opera tutte le opere tutte insieme ok? quindi poi detto questo un altro modo per pubblicizzare il tuo cofanetto il tuo bundle il tuo box set è attraverso una squeeze page quindi una pagina nascosta nel tuo sito mi viene in mente per esempio Mark Dawson ed è una tecnica che ultimamente sto utilizzando anche io effettivamente che succede? il lettore va sul tuo sito si invalta nel tuo sito si scrive la tua mailing list e vede che può scaricare gratuitamente uno dei tuoi libri e dopodiché quando sei iscritto gli appare viene diciamo portato in una pagina particolare una squeeze page dove gli scrive gli si iscrive congratulazioni risulti sei stato l'escrizione alla newsletter è avvenuta con successo controlla la tua mail perché tra poco ti arriverà il tuo libro in regalo ma intanto se ti interessa qui sotto come puoi vedere puoi acquistare se già ti interessa puoi acquistare con un forte sconto la raccolta completa di questa serie ok e quindi Mark Dawson fa così lui pubblicizza direttamente appena uno si iscrive e si ritrova davanti una una diciamo chiamiamola upsell o quello che ti pare insomma un'offerta interessante e e magari alcuni dicono beh già mi becco un libro gratis comunque mi piace mi interessa io quasi quasi ne approfitto perché è un'offerta che c'è solo adesso e me lo compro e se compro il cofanetto e tu pratica tranquillamente ti pubblicizzi il tuo bel cofanetto a costo zero ok e quindi questa è una cosa appunto che sto facendo anch'io e noto che ogni tanto qualche cofanetto lo vende certo non è che lo vende a tutti quanti quelle che si iscrivono perché molti vogliono il libro gratis però intanto metterlo metterlo lì pubblicizzarlo lì in questo modo non troppo invasivo conviene ed è gratuito ok allora poi un'altra cosa di cui parlare sì avevo sentito di recente un'intervista a Mark Lefebvre lui adesso è il direttore marketing per Draft2Digital precedentemente invece era colui che ha fondato Kobo Writing Life quindi lui lavorava per Kobo a livelli molto alti canadese molto simpatico e lui scrive racconti scrive racconti horror eccetera e lui in questa intervista che era per fare self publishing marketing academy qualcosa del genere che ho acquistato insomma in questa intervista lui diceva che gli conveniva per chi magari scrive racconti non è che li può piazzare vendere tutti quanti insomma a 99 centesimi cosa fanno? fai una bella raccolta con tutti i tuoi racconti e li vendi così magari hai 10 racconti ogni racconto 30 pagine però tutto insieme viene una bella cosa viene già 300 pagine ok quindi anche lui diceva che effettivamente può convenire anche economicamente scrivere semplicemente racconti perché tanto poi tu li puoi vendere comodamente con questi bundle questi box set a prezzi vantaggiosi ecco poi invece vediamo un po' leggevo anche ho finito da poco di leggere un libro di Craig Martell lui si occupa di fantascienza e parlava insomma della della pubblicazione in rapid release ok scusa ho bevuto un po' d'acqua era un libro su come funziona la rapid release e quindi lui diceva che quando può convenire effettivamente pubblicare un box set a volte può convenire pubblicare un box set se tu stai in rapid release quindi c'hai magari cinque facciamo finta c'hai cinque libri che c'hai già pronti nel cassetto comincia a pubblicarli tutti in serie ok ogni mese ne pubblichi uno al mese per soledicare l'algoritmo di Amazon che lo sai che ti dà una certa spinta nei primi trenta giorni quindi tu sfrutti questo timing lui dice che magari puoi anche finire con un box set quindi li pubblichi tutti e cinque è il sesto mese vuoi continuare ancora a far girare sta cosa far girare gli algoritmi di Amazon può pubblicare anche un box set e dice che può convenire perché comunque il tipo di clienti che sono interessati a un box set non sono gli stessi che sono interessati a comprarsi i libri singoli ok però per esempio invece Chris Fox che ho menzionato prima perché avevo vinto il suo bundle audio libro Chris Fox dice che magari puoi rivitalizzare una serie ormai morta con un box set e quindi magari hai pubblicato tutta la tua serie aspetti un annetto quindi dopo un po' non riesci anche gli ads eccetera non riescono più a tenerla troppo a galla perché non hai è finita non hai prodotto altre cose nuove tac dopo un anno aspetti un anno che calano un po' le vendite e poi fai un box set per rivitalizzarla ecco quindi non c'è una regola fissa di quando pubblicare un box set dipende un po' dalla tua strategia di fondo di marketing ma non solo perché sempre nel libro di Craig Martell lui parla dell'uso dei box set sia per magari un piccolo numero di libri di una serie sia per l'opera Omnia quindi tutti i libri tutti insieme quindi lui cosa fa lui pubblica i suoi libri uno per uno poi magari fa uscire un box set con i primi tre libri poi fa uscire dopo un po' un secondo box set con altri tre libri eccetera e poi alla fine fa uscire l'ultima raccolta la raccolta Omnia che lui mi pare chiama Omnibus quindi un terzo box terzo bundle con tutti i libri tutta la raccolta completa ok e quindi come vedi puoi in questo modo diciamo riciclare i tuoi asset riciclare i tuoi libri in tanti modi diversi ok ma non solo parlando anche del lancio della pubblicazione di un box set mi viene in mente un caro amico nonché collega di Craig Martell che è Michael Underle e lui ultimamente sta sperimentando ok quindi ancora non ha non ha avuto dati finali di questa strategia nuova che sta provando credo abbia cominciato quest'anno mi sa o al massimo l'anno scorso lui produce in serie un sacco di libri anche perché scrive molto velocemente Rapid Release scrive molto velocemente perché li scrive a quattro mani a volte con Craig Martell e a volte con altri ok loro poi c'è una un'azienda come posso dire una una casa editrice loro diciamo hanno fondato indipendente eccetera quindi cosa fa lui scrive la serie ok c'è già la serie pronta e facciamo finta cinque libri cosa fa pubblica immediatamente immediatamente il box set quindi pubblica il box set prima di pubblicare i libri singoli della serie fa l'esatto opposto prova il contrario questo perché perché con i dati insomma che ha raccolto negli anni della pubblicazione si è accorto che è un po' difficile effettivamente passare per il lettore passare dal primo libro di una serie al secondo poi dopo il secondo è più facile perché già sei dentro sei agganciato hai già comprato i primi due libri continui col terzo quarto quinto e vai avanti però c'è uno scarto molto marcato tra il primo e il secondo libro ok perché comunque uno deve leggerselo tutto le deve piacere poi deve comprarsi deve fare lo sforzo per cliccare e comprarsi anche il secondo se tu pubblici il box set direttamente così a crudo eviti praticamente eviti quel passaggio dell'acquisto del secondo libro e degli altri perché ce l'hai tutti là ce l'hanno tutti insieme in questo modo il read through rate aumenta e soprattutto in KU conviene molto capito e poi dopo puoi tranquillamente pubblicare anche gli altri libri quindi lui è questo che sta sperimentando e la trovo effettivamente un'idea molto interessante da da tenere in considerazione ecco non si sa mai se ti va di sperimentare puoi provarci anche tu e e niente quindi ecco diciamo questo insomma era per chiudere un po' con una chicca la nostra puntata sui bundle box set cofanetti e compagnia bella e quindi se se già non l'hai fatto già non ce l'hai prova prova perché sicuramente è un prodotto che che conviene conviene immettere sul mercato a noi autori indipendenti ok vedo che comunque vanno vanno di moda vedo anche per esempio su Kobo avevo notato che a volte pubblicizzano proprio soltanto i cofanetti a chi li conviene appunto con prezzi anche molto interessanti c'era tipo un cofanetto con tutti i libri da J.K. Rowling tutta la serie di Harry Potter mi sembra costava tipo 60 dollari qualcosa del genere in Kobo canadese oppure c'erano tutti i libri della serie delle croniche del ghiaccio del fuoco di George Martin e anche lì anche quello costava costava parecchie se non mi ricordo 50 70 dollari non mi ricordo quindi sono è interessante loro vabbè stanno ad altri livelli c'hanno una fanbase che noi ce la sogniamo però per dirti capito i box set si vendono si possono vendere sono molto interessanti puoi fare un box set e puoi lanciarlo per esempio a 99 centesimi e lo spari proprio in alto nelle classifiche di Amazon certo magari ci rimetti nei primi giorni di lancio però però poi dopo insomma la gente lo scarica molto più volentieri rispetto a un libro singolo capito quindi può essere molto molto interessante tra l'altro puoi utilizzarlo anche come reader magnet per le tue newsletter magari fai un bundle di alcuni racconti che hai o dei primi tre libri di una lunga serie magari c'hai dieci libri metti i primi tre li vuoi dare gratis così uno c'ha già una piccola collezione di tre libri se la vuole finire tanto sono gratis i primi tre e poi acquista tutti gli altri arriva fino a 10 15 libri tranquillamente capito ci sono tante strategie dietro basta insomma sedersi un po' così pensarci e si possono fare tante belle cose ok bene quindi per oggi è tutto e ci sentiamo alla prossima tra l'altro orecchie aperte questo mese farò aprirò di nuovo le iscrizioni a amazon ads facile quindi il mio videocorso completo sugli amazon ads italiani quindi orecchie aperte sarà solo per un periodo limitato devo decidere ancora se sarà per una o due settimane voglio farlo ovviamente prima di natale in modo che se ti interessa puoi prepararti al meglio in vista del periodo natalizio che è quello insomma dove riusciamo noi autori a vendere di più in tutto l'anno ok quindi niente continua a seguirmi se mi stai ascoltando su apple podcast puoi lasciare una recensione e per il resto appunto ti invito ad andare sul mio sito scaricare gratuitamente il kit dello scrittore 2.0 o se l'hai già fatto passa parola ciao nella giungla di amazon è dura sopravvivere con milioni di libri a portata di click il tuo è solo uno fra tanti ma forse hai ancora qualche speranza self publishing marketing il nuovo libro di eugene pitch tutto quello che non ti hanno mai detto per avere più successo con i tuoi libri self publishing marketing è ora di autopubblicarsi sul serio self publishing marketing è disponibile su amazon Kobo ibs radio scrivo vivi delle tue parole